Buongiorno, amici! Come stai? Sì, è un bellissimo lunedì. È il banquolide? Sì, banquolide, banquolide. Eccoci, qui andiamo, qui andiamo. Molto rilassante, molto rilassante. Let's danse, let's danse, let's relax. Oh, 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 qui andiamo, qui andiamo. Oh, 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 eh, here we go. Oh, 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 oh! Oh, oh. Oh, 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 oh. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.